Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ovviamente parliamo del tema Plus Valenza e ve l'ho chiesto su Instagram, ho provato a ignorarvi ma alla fine mi avete beccato insomma che non ne volevo parlare. Ogni promessa è debito ed eccoci qua. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un like. Ora, questo video non vi renderà degli esperti di diritto sportivo, non risponderà a tutte le vostre domande e molto probabilmente avrà anche qualche imprecisione perché la faccenda è lunga e complicata e non intendo neanche prenderla tutta perché se no stiamo qua delle ore. Io volevo partire iniziando una specie di domanda risposta secca per fornirvi alcune informazioni perché tanto il grosso della vicenda bene o male lo sapete. Quindi mi sono segnato alcune domande secche a cui rispondere che vi possono essere d'aiuto anche quando leggete i giornali, quando cercate di approfondire l'argomento. Primo tema, le plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti. Io qua lo dico, lo ribadisco e lo risottolineo, non sarà mai e poi mai il tema plusvalenze oggetto delle contestazioni che troveremo nelle motivazioni. Assolutamente non è possibile. Chi vi fa vedere tutti i fogliettini con le plusvalenze dell'Inter, Napoli, Milan, Pizzighettone, Portogrualo e Polisportiva, Bar Piazzetta, sta semplicemente perdendo tempo. Non c'è un reato, quindi non c'è una colpa, non ci può essere una punizione, questo lo so io, figurati se non lo sanno i giudici del tribunale sportivo perché l'ordinario è tutta un'altra faccenda. Quasi sicuramente ci si appella sostanzialmente all'avere compromesso lo svolgimento di un'equa competizione. Questo è un fatto anche lì che uno può contestare, ma in verità se io ho perso contro una squadra che non poteva avere quel determinato giocatore, non poteva essere in campo, non poteva fare uno, l'altro, quell'altro, è anche complicata dirgli che non è vero. Alla luce del fatto, lo ribadisco, che ci sono migliaia di pagine di intercettazioni in cui questi fenomeni non fanno altro che dire ammettere le cose al telefono. E questo è un punto. Secondo, non è solo la Juve, questo è quello che dicono i miei clienti quando arriva una cartella dell'Agenzia delle Entrate e ma lo fanno anche gli altri. La mia risposta è sì, ma intanto hanno beccato te. Perché alla fine della fiera questo è. Possiamo essere d'accordo che sarebbe stato più corretto dare le punizioni tutte insieme alla fine, perché anche punire in tempi diversi può portare dei vantaggi e degli svantaggi, però altrettanto vero che il fatto che altri lo facciano non preclude che una cosa sia illegale o sia sbagliata. Perché poi non voglio io mettermi a dire se la sentenza è giusta o sbagliata, non è quello il mio mestiere, però il fatto che lo facciano anche gli altri fondamentalmente non pregiudica in nessun modo il fatto che una cosa sia formalmente giusta o sbagliata. In terzo luogo, quelli che dicono che le plusvalenze non hanno la finalità di camuffare i bilanci, di migliorare situazioni perché tanto la Juve i soldi ce li ha, anche qua. Le intercettazioni, ma è ovvio che sia così, dimostrano che le plusvalenze servono esattamente per abbellire i bilanci. È innegabile che la Juventus ha i soldi per poter coprire qualsiasi cosa. E' altrettanto innegabile che a un certo punto un direttore, la proprietà, chi per lui, ha deciso che non voleva ricorrere a chiedere alla proprietà di ripianare e basta, ma di provare a sistemare le cose in altro modo. Quindi anche qua siamo sempre al punto di prima. Il fatto che si potesse fare diversamente non pregiudica il fatto che come hai fatto può essere sbagliato. Ed è un dato chiaro. Quarta cosa. Non è possibile negare il fatto che la Juventus ha commesso delle infrazioni. Né sul tema plusvalenze, né sul tema salari. Non è possibile. È mala fede. Possiamo poi dire che siccome le fanno tutti la pena è troppo alta, possiamo dire che andrebbero puniti tutti nello stesso momento, ma dire che è stato fatto tutto in maniera corretta, quello proprio no. Poi, come vi ho sempre detto, le società milionarie hanno strutture complesse, si utilizzano strumenti complessi per gestirle, a volte sono strumenti sul filo del rasoio. Quindi io non è che sto puntando il dito, però dal momento in cui chi è adibito ai controlli ti dirà, se ti dirà che così non si poteva fare, così non si poteva fare, punto. Non è che ci scappi. Altra cosa che secondo me è interessante far capire. Se la giustizia sportiva ha dato meno 15, fidatevi che il resto è peggio. Perché la giustizia ordinaria, che andrà a vedere i bilanci, lì ce n'è di ogni, e vi sottoscrivo per l'ennesima volta, il tema stipendi è molto, ma molto, ma molto più grave del tema plus valenze. Perché bilanci alla mano il tema stipendi mostra che a un certo punto, alla fine del 2001, la società Juventus aveva un patrimonio netto di 28. Si contestano 64 milioni di stipendi, sarebbe un patrimonio netto negativo. Patrimonio netto negativo non è possibile. E quindi lei non poteva iscriversi ai campionati. rispondiamo di nuovo, perché tanto so che la critica la fanno, e ma la Juventus comunque i soldi ce li avrebbe avuti per rimpianare. Nella nostra giurisdizione, quando tu sbagli contabilmente una cosa, ti fanno rettificare o modificare esattamente quel singolo costo, quel singolo ricavo, e non ci puoi fare più niente attorno. Di conseguenza, se io prendo il bilancio del 2021 e ci metto dentro 64 milioni di costi, quel bilancio li ha patrimonio netto e perdita, è andata la faccenda. Non ci scappa. È un errore gestionale, è una situazione che si poteva risolvere diversamente. Sono senza dubbio convinto anch'io, però quello è. D'altronde anche quando prendi la multa perché non vedi che c'è il parcometro, ma avresti potuto pagarlo. Eh, ma non l'hai pagato. Per principio, grosso modo, è la stessa identica cosa. E anche sugli stipendi. Fatemi spiegare un'altra roba che tanti non hanno capito. Che cos'è che ha fatto la Juve? La Juve, il problema non è aver posticipato gli stipendi. Il problema è, secondo quello che viene accusata, secondo le deposizioni di alcuni calciatori, secondo alcune carte che sono state ritrovate, vengono chiamati singolarmente i giocatori, gli si dice, rinunci per questa stagione a quattro mesi di stipendio e firmi su questo foglio. Sull'altro foglio scriviamo che questo stipendio te li torno l'anno prossimo e te li torno in X modi. Il foglio in cui dico che li rinuncio agli stipendi, lo deposito subito in lega e faccio il bilancio dicendo che hai rinunciato agli stipendi. Dopo il bilancio tiro fuori il foglio in cui deposito l'accordo in cui ti devo ritornare agli stipendi. Ma essendo stati firmati nello stesso momento, queste side letter, come vengono chiamate, io al momento della redazione del bilancio sapevo già che ti dovevo pagare quegli stipendi. Quindi quel mancato costo non esiste. Punto. Io più semplice di così non ve la so fare. L'ultima roba, e poi vi lascio, tema Atalanta. Al momento sul tema Atalanta c'è poco da raccontare. C'è quella famosa roba di muratore. Vi ricordo che in caso di rettifica, cioè se io fossi costretto a iscrivere muratore a quella cifra, cambia poco o niente, anzi risparmio di tasse. Resta il tema dell'associazione finalizzata a rendere meno competitivo il campionato, come ha ipotizzato qualcuno. Tantissimi auguri, un abbraccio e una pacca sulla spalla a chi dovrà dimostrare quella roba qua. Perché secondo me non è nient'altro che un pretesto per poter guardare le carte, perché giustamente devono vederle, non avendo altro che attaccarsi, tirano dentro una roba del genere, ma stiamo davanti a qualcosa che sfiora l'indimostrabile e anche perché non vede i vantaggi che hanno avuto gli altri club. Infine, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che all'interno dei regolamenti è previsto che se i giocatori hanno realmente fatto quello che hanno fatto, si beccano un mese di sospensione, giocatori, allenatori e quant'altro. E non è escluso, dato che di molti di loro ci sono sia le carte firmate della rinuncia, sia le carte firmate del riprenderseli, che le cose arrivino a breve. Per i tifosi atlantini di De Miral, che ai tempi era la Juventus, non c'è la side letter, cioè non c'è quel foglio che dice, in cui De Miral firma con la proprietà dicendo me li date dopo. Quindi al momento non sarebbe oggetto di sospensione, cioè la sua risulterebbe una reale rinuncia. Questo da un dato è consolatorio, dall'altro no, perché potrebbe dire che non li hanno dati regolarmente, ma a quel punto sono fattacci suoi, e questa cosa qua l'Atalanta non la riguarda particolarmente, però al momento non c'è niente da muovere verso il giocatore. Io spero che in questo modo di avervi chiarito alcuni dubbi. Lo so che magari qualcuno voleva una roba discorsiva di sei ore, ma ragazzi vengono fuori una roba incompressibile. Così vi ho chiarito un po' di cose. Se poi nei commenti le cose che non avete capito, gli spunti, me li scrivete, magari poi ne facciamo un altro in cui rispondo solo a quelle parti lì. Però altrimenti usciva un video di 40 minuti e diventava molto complicato portare avanti tutto lo svolgimento. Vi ringrazio tantissimo, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!